Mister Chietti, dopo un inizio di campionato non molto positivo, arriva una bella vittoria qui a Dischia, forse un po' inaspettata, però avete fatto una bellissima partita. Inaspettata per la classifica che occupiamo, però magari le partite bisogna viverle e vederle. Voi logicamente seguite ognuno la sua squadra, io seguo la mia, fino adesso noi ce la siamo giocata sempre con tutti, gli episodi negativi ci hanno un pochettino danneggiato più volte e diciamo che non è venuto il risultato. Però la squadra togliendo la partita con l'Ercolanese abbiamo sempre espresso un bel calcio, stavamo vincendo con la Caivanese, 2-0 hanno ribaltato il risultato. Quindi oggi penso che abbiamo meritato nel primo tempo il risultato ampiamente, poi magari un po' nel secondo tempo c'è stata la reazione del Forio e poi dopo magari l'espulsione hanno danneggiato un pochettino l'andamento di tutta la gara. Però torno a ripetere, il Volla è vivo, il Volla non è la vittima sacrificale di ogni domenica come magari tutti si aspettano, noi ce la stiamo giocando con tutti, come ripeto gli episodi ci hanno danneggiato più volte e oggi magari gli episodi ci hanno favorito. Quindi per me sono tre punti importanti perché farli qua a Ischia dove il Forio sta facendo un ottimo campionato, sta là sopra, non si può che essere orgogliosi e magari da ripartire da questa vittoria. Mister, una squadra molto giovane e soprattutto molto veloce, siete partiti spesso in ripartenza e i gol sono nati praticamente quasi tutti su contropiede. Cercherete di improntare il vostro gioco sempre in questo modo o magari la partita di oggi lo richiedeva? Ma oggi è normale, giochi fuori casa contro una signora squadra che forse giocando il mercoledì hanno un pochettino speso troppo nella Coppa e oggi magari noi abbiamo avuto una meglio. Però è normale che fuori casa cerchi prima di non prenderle e poi ripartire, però noi facciamo un calcio propositivo, cerchiamo sempre di incominciare l'azione da dietro. Oggi è normale che con gli spazi che si sono creati abbiamo fatto di necessità virtù, bene così e pensiamo già alla prossima che giocheremo in casa.